Ci preparo una ricetta gustosa in 5 minuti. Voilà! Pronti per voi! Crocchetti di prosciutto cotto con ripieno di specchia patate. Bravissima! Pronti per voi! Un menù di specialità esclusive rovagnati. E oggi, due straordinarie novità. Bastoncini ricoperti di cereali con dadini di prosciutto cotto e mozzarella. E bastoncini croccanti con buon formaggio e mozzarella. Pronti per voi! Rovagnati, il gusto di dare di più. Chi l'ha insegnato a cucinare? Rovagnati! Rovagnati!